C'è signora qui? Sì, è vergognoso, qua passiamo tutti i giorni con i bambini, dobbiamo fare lo slalom e la spazzatura. È una cosa assurda, dobbiamo fare qualcosa perché questo cambi, in primis dobbiamo cambiare noi. Avete avvisato a qualcuno, avete fatto segnalazione al comune, a chi di competenza? No, voglio dire, comunque sono già l'anno scorso, la situazione è sempre stata questa ed è sempre peggio, non cambia nulla. Questa è una scuola elementare, bambini piccoli? È una scuola elementare, sì, è una scuola elementare, primaria, ripeto, noi portiamo tutti i giorni i bambini e questa è la situazione. È veramente... La scuola è questa? È Corrada al Baro, Corrada al Baro. Anche altre mamme siete qui? Sì, sì, assolutamente, queste sono le condizioni in cui vige la scuola. Va sempre peggio da quando è iniziata ad oggi, appunto, vedete in quale condizioni sono, i bambini la mattina fanno lo slalom tra la spazzatura. Qualcuno avete avvisato? Sì, però non abbiamo ricevuto risposte. E sono delle nignate le mamme, perché sono dei bambini? Assolutamente sì, perché sono piccoli, cioè sia la scuola materna lì che questa è l'elementare, quindi bambini piccoli in ogni caso, piccolini. Cosa farete se non qualcuno... Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Ci affidiamo magari a chi di competenza, appunto, che venga a pulire un po', un minimo di decenza, non chiediamo l'extra, ma un minimo di decenza, proprio per la pulizia per i bambini. Oltre all'amministrazione comunale avete fatto presente anche qui al treno? Sì, ma purtroppo ancora non abbiamo ricevuto risposta. Queste sono le condizioni dall'inizio della scuola fino ad oggi, appunto. Non è cambiato nulla. Dio al sindaco che c'è una scuola qua, ci sono bambini dell'asilo, ammalati, cose, se potete essere questo schifo qua. La strada è tutta rotta, la strada, se cade un bambino si fa pure male. Ma che faccio questo sindaco? Non dico le altre strade, ma almeno dove ci sono le scuole, le bambini, almeno dove ci sono le scuole, le bambini, almeno dove ci sono le scuole, le bambini, le bambini. Ci sono le scuole elementari e i bambini dell'asilo, vogliono prendere malattie, ci potete essere questo schifo in una scuola così, secondo voi? E devo prendere un provvedimento, io non lo so questo sindaco che faccio, non lo so, vogliono muovere, a che ne abbottare? C'è un decreto totale? Sì, sì, ma in una scuola, ci sono bambini piccoli pure, fino a dire erano grandi, erano grandi, vabbè, ma i bambini piccoli, più piccoli di loro, un anno, due anni, ci potete essere questo schifo, non lo so, più di questo non lo so, è giusto la strada, mi faccio le strisce pedonali, la strada, guardate c'è la strada, come è. Non ci sono, è una strada, una strada che faccia schifo, devono passare i bambini, i cattoli, i cattoli, ma non lo so, vedete, qua c'è tutto qua, i dottor direttori, pure il direttore della scuola. E con questa birra chi si investe? Tutti questi profughi. Ma sono stranieri o italiani? Ma ci sono stranieri, ci sono italiani, tutti i passi ci sono, ma poi dico io, qua c'è un direttore, non prende, mi vede, mi dice, su schifo ci potete andare a scuola, dopo ci sono pure bambini piccoli, non lo so.